La Tema Remma non solo continua a crescere, continua anche a scommettere in un momento di difficoltà. Il momento è veramente difficile, quello che stiamo vivendo nel settore agricolo ce ne sta dando la prova e la dimostrazione, però noi abbiamo tantissimo coraggio, siamo convinti che il nostro lavoro se fatto con dedizione, con passione, portando in giro un prodotto di qualità ci possa dare delle risposte positive. Noi a queste risposte ci crediamo, per questo abbiamo fatto questo investimento, per questo stiamo andando avanti. La nuova ala che stiamo inaugurando in questo momento è l'ala che ci permetterà di produrre questo yogurt da bere con latte toscano e questo latte Esla, un latte a più giorni. Il latte Esla è una necessità del mercato, è un bisogno che abbiamo per stare all'interno del sistema mercato perché ce lo sta chiedendo in maniera abbastanza pressante. E lo yogurt da bere è un valore aggiunto perché nel nostro yogurt da bere adesso ci sarà latte toscano e quindi questo è in linea con tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Il latte, come avete visto, nelle buste è toscano al 100% con il logo e con la stellina che lo rappresenta e anche nello yogurt da bere abbiamo voluto fare questo salto di qualità.